Premesso che l'uomo fa la guerra con chiunque, con qualunque cosa, diciamo, è proprio insito nella propria natura, non credo che ci sia ancora una scienza, una tecnologia in grado di salvare l'uomo dalla sua stessa belligeranza. Detto questo, in termini di artificial intelligence, io credo di avere una posizione in questo momento abbastanza di mezzo, ma non per un mio carattere, ma perché non sono riuscito a trovare una soluzione catastrofista che mi convinca o troppo ottimista, altresì che mi convinca allo stesso modo. Da sempre ogni tecnologia ha soppiantato vecchi lavori e li ha sostituiti con nuovi, e sinora il bilancio è stato mediamente positivo, soprattutto in una società che ambiva a crescere costantemente. Noi abbiamo ancora l'idea di crescere al 2% del pil, no? Crescere all'infinito è un qualcosa che poi andrà sociologicamente, antropologicamente spiegato, però facciamo finta che questa sia la cosa migliore in questo momento. Vogliamo crescere, dobbiamo per forza adeguarci e crescere anche come tecnologia. D'altro canto, c'è un aspetto fondamentale, il cambiamento tecnologico adesso è troppo veloce rispetto a come era prima. Prima avevamo 30, 40, 50 anni, un secolo per abituarci a una tecnologia, e quindi prendevamo le contromisure, creavamo dei nuovi lavori che si adattavano e che sostituivano i vecchi. Ora, con la velocità altissima del cambiamento tecnologico, alle volte diventa difficile persino adeguarsi ad un cambiamento tecnologico che già c'è la nuova generazione, no? Quindi diventa sempre più difficile per noi riciclarci, cambiare lavoro, sostituirlo. Un conto è farlo su una scala di tre decadi, quattro decadi, un conto è farlo sulla scala di cinque anni. Questo è il problema, è un problema in realtà di formazione, di formazione continua, cioè di mettere il lavoratore, il cittadino in condizione di potersi adeguare entro limiti ragionevoli in tempi molto più rapidi di come non è stato in passato. Questo richiede una società pronta a investire sul cittadino, non solo nei primi 18 anni di scuola o 16 o quello che è, ma in tempi più lunghi. Quindi è un disegno di società. Che società vogliamo? Una società di conoscenza, una società di Homo sapiens in cui possibilmente sul cittadino si investa e gli si dà l'opportunità di riciclarsi in qualche maniera se nel corso della sua vita anche più di una generazione tecnologica gli soppianta il lavoro e gliene fa cercare un altro. Io credo che bisogna andare a disegnare i molto equilibrati. Il primo che mi viene in mente è che è assolutamente necessario investire sull'intelligenza. sia essa artificiale o naturale. Nello stesso tempo non bisogna fare del terrorismo. Io aggiungo una mia personale considerazione al fatto che non bisogna temere ciò che non si conosce. L'intelligenza artificiale ovviamente è una cosa che noi temiamo, soprattutto in combinazione con una macchina forte, ma non bisogna temere ciò che non si conosce, bisogna studiarlo, bisogna capirlo, senza ideologia. Ed ecco che se da un lato investire sull'intelligenza, io concordo su quest'idea, investiamo comunque sull'intelligenza, qualunque essa sia, a partire dagli esseri umani. Servono più innovatori, più ricercatori, più laureati. Queste cose le sapete meglio di me. L'Italia fa analino di coda in questi aspetti. D'altro canto, proprio grazie a un maggior numero di persone che studiano, investimenti in conoscenza, dovrebbe essere in grado di comprendere meglio cose che oggi un po' ciecamente temiamo. E questo dovrebbe essere, dovrebbe essere questo il miglior antitodo al distruttivo rifiuto di qualunque cambiamento, che a mio parere è antitetico al concetto di società evoluta. Evolvere, progredire, vuol dire non prendere il cambiamento alla cieca, ma nemmeno rifiutarlo a priori. E alla base di questa semplice equazione c'è la conoscenza. Qualcuno che studia, che cerca di capire e che onestamente, senza ideologia, dice ho capito questo, si compara con i suoi pari, con quelli che studiano le stesse cose, e poi in qualche modo tira fuori una roadmap, tira fuori un documento, dei suggerimenti, che poi i politici, le parti sociali, cioè coloro i quali decidono, in maniera a questo punto informata, devono essere in grado di usare per fare le scelte migliori. Se continuiamo a dire no a tutto, non ci difendiamo, retrogradiamo e basta, d'altro canto non si può dire sì a tutto in maniera incondizionata. Bisogna studiare. Qualcuno che studia a tutti i suoi pari? Nel brevissimo termine c'è il pericolo che tecnologia di lavoro diventi un ossimoro, cioè che la tecnologia rubi i posti di lavoro, diciamolo molto chiaramente nel linguaggio parlato. Però noi sappiamo anche che una società pensata in maniera intelligente, una società pensata per essere sostenibile, deve mettere in grado il lavoratore di cambiare, di evolvere, esattamente come evolve la tecnologia. Allora, se la società si ferma alla sua organizzazione attuale, con poca gente che, con pochi investimenti in innovazione, in ricerca, in divulgazione, è ovvio che la tecnologia mangia posti di lavoro ed è sempre più difficile recuperarne. Ma se si facesse un disegno integrato, no? In cui divulgazione, informazione, cittadino informato, scuola, università, si aumentasse il numero di innovatori e di ricercatori e si partecipasse di più l'evoluzione tecnologica che tanto va avanti, perché è evidente, ecco che allora noi probabilmente potremmo usufruire della parte positiva che invece in questo momento rischiamo di perderci. Diciamo così che per l'innovazione tecnologica ci sono aspetti positivi di brevissimo termine e di lungo termine. Se noi non adeguiamo anche la nostra forma sociale, rischiamo di perderci gli aspetti di lungo termine, che sono quelli più importanti. A fronte di cosa? Di avere un telefonino un po' più figo, un po' più efficace? Ma questo mi pare un miglioramento minimale. Noi dovremmo imparare a diventare amici della tecnologia, a sfruttarla come si deve, non apprendere solo gli aspetti di moda. Io posso utilizzare l'automazione sia per aumentare finché posso la produzione per fare più soldi, ma anche, casomai, mantenendo la produzione entro limiti ragionevoli per migliorare il processo produttivo in modo che abbia meno impatto. Anche questo è un modo di aumentare il PIL, di aumentare la qualità della vita di una società. La macchina fa di conto, qualunque scelta che prende, la prende perché ha calcolato le probabilità di due scenari e ha scelto in funzione dell'algoritmo quello che in base alla probabilità minimizza il rischio, qualunque esso sia. Immaginate un'automobile che guida da sola, deciderà la cosa che minimizza il rischio di far male, che so, al conducente o al passeggero. Noi ci mettiamo qualcosa in più, ci mettiamo la visione, ci mettiamo anche una forma di attaccamento ai nostri luoghi, ai nostri origini, alla nostra cultura. L'uomo scrive grandi poesie quando è innamorato, quando è arrabbiato, fa grandi opere d'arte quando il suo sistema ormonale è sballato e biochimicamente in quel momento ha dei dosaggi che non sono quelli normali. Ecco, questa cosa su una macchina non succede. Dobbiamo prendere, come della tecnologia prendiamo il bello e il brutto, è bello perché è utile, ma è brutto perché toglie posti di lavoro. Dobbiamo prendere il bello e il brutto anche degli uomini. Gli uomini impazziscono perché sono irrazionali, ma è proprio grazie all'irrazionalità che restano superiori a qualsiasi macchina. Quindi abituiamoci, studiando le cose, non temendole a priori, che ogni cosa, l'essere umano come la tecnologia, ha un aspetto positivo o non negativo. Noi dobbiamo essere sufficientemente intelligenti, colti, informati, da prendere il meglio minimizzando la parte, diciamo, negativa, l'aspetto oscuro. E questo vale sempre per le macchine e per gli esseri viventi. È ovvio che se noi nel 2017 ci svegliamo e ci rendiamo conto che sono 20 anni che non abbiamo investito sull'innovazione, sulla divulgazione scientifica, sull'informazione e sostanzialmente su una società aggiornata, perché qui il problema è la coscienza del cittadino. Sempre leggendo le statistiche del World Economic Forum, è stata fatta una domanda di quali fossero i principali ostacoli per, diciamo, il successo delle aziende nel mondo. E la prima risposta che è stata data, sono sul web queste cose, è scarsa comprensione dei meccanismi di cambiamento indotti dalle tecnologie. Ma detto dalle multinazionali, non da Roberto Cingolani o da uno di noi. Quindi quando le grandi, persino le grandi aziende, ammettono di non aver capito in anticipo cosa stesse succedendo, stanno ammettendo e abbiamo sbagliato. A questo punto, aperta la stalla, scappati i buoi. Ora dobbiamo fare il cosiddetto damage control, il controllo del danno, il recupero del danno, ed è una cosa complicata, è una cosa che costa la società. Secondo me, un conto è recuperare il danno che probabilmente non è immenso ancora e si può recuperare, un conto però è cominciare a capire che ci dobbiamo svegliare, cioè che dobbiamo veramente cominciare ad affrontare questi problemi senza guardarci in Cagnesco, cioè le parti sociali non devono dire no a priori a tutto perché sospettano che ci sia la fregatura, ovviamente chi fa innovazione ed educazione deve essere molto onesto, cioè non deve, spesso quello che succede è che delle tecnologie sono vendute o sono imposte dicendo senza questa non puoi vivere e non è vero, molte tecnologie sono assolutamente ridondanti, le tecnologie che servono, questa è la nostra visione, sono proprio quelle intorno all'essere umano, cominciamo a investire su quelle. Ecco, bisogna rimettere un pochino intorno al tavolo e secondo me il denominatore comune è che ci si capisca e per capirsi bisogna avere delle competenze, cioè bisogna che qualcuno spieghi, che qualcuno studi, che ci sia un grande numero, un maggior numero di innovatori, cioè che la società cresca intorno alla conoscenza. Il contributo che quelli come noi, cioè i ricercatori, gli innovatori, gli insegnanti, i docenti, i professori possono dare, a mio parere, è di alimentare una filiera gratuita e virtuosa, cioè il primo livello dell'aggiornamento, e lo dico da padre, io ho tre figli di 23, 18 e 8 anni, quindi li ho visti studiare a tutti i livelli, il mio grande lavoro in Svezia, l'altro è l'università, un altro è l'alimentare, per cui ho tutto il quadro davanti. Allora, è molto importante vedere questa cosa, perché credo che un aspetto fondamentale sia per esempio chi aggiorna gli educatori. ora, l'educatore a sua volta ha gli elementari, le medie, il liceo, l'università, e quindi c'è anche un problema di che livello di aggiornamento dare all'educatore, se volete chi educa l'educatore, perché la tecnologia, l'innovazione crescono molto rapidamente, allora io vedi i miei figli che vanno in una scuola, vedo il sacrificio che fanno i docenti per essere aggiornati, perché quando tu parli con un ragazzino che ha 12 anni è abituato a smanettare con social, internet, computer touchscreen, e io sono 55enne che quando ho studiato non c'era neanche il computer, il pc, capite che un problema ce l'ho, anche se ce l'ho messa tutta ad aggiornarmi. Ecco che l'IT, per esempio, un istituto come l'IT o i colleghi di altri istituti potrebbero prestare intanto un servizio. Noi, nei weekend, i sabati mattina, 20-30 sabati l'anno, nel nostro editorio, perché non ospitiamo i docenti, parlo della Liguria, ma si può fare in tutte le regioni, i docenti delle materie, in questo caso scientifiche, le nostre, per fare degli aggiornamenti, per parlare con i ricercatori, fargli sentire le last news, no? Le ultime novità. Poi, quelli più interessati li facciamo persino venire ad estati in laboratorio. Immaginatevi per un professore, quindi può essere professore di mio figlio, quindi in conflitto di interesse, l'opportunità di venire a vedere i laboratori più avanzati, parlare con i ricercatori da tutti gli stati, in settori molto moderni, molto innovativi, e dirgli ti raccontiamo in 20 weekend, 20 sabati, tre ore o quattro ore la mattina, gratuitamente da parte nostra, ovviamente, tutto quello che sta succedendo nei laboratori avanzati. Questo docente, intanto ha una bella opportunità, quando poi fa lezioni a mio figlio, gli racconta delle cose che mio figlio non può vedere, non tutti i figli hanno il genitore che fa il ricercatore, no? Quindi è una cosa che ritorna nelle nostre famiglie, e sarebbe anche ideale che poi il Ministero dell'Istruzione in caso mai riconoscesse queste cose ai fini della valutazione di carriera, ci sono adesso dei meccanismi premiali. Se questa filiera fosse adottata da noi, ma anche dai livelli diciamo di educazione che sono sotto il nostro, per i corrispondenti livelli più in basso, questo genererebbe un sistema di, si chiama bootstrapping, è come sollevarsi dai lacci delle scarpe ed è gratuito, non costa nulla, costa solo a buona volontà. Grazie a tutti.